Lo dicono anche le ricerche scientifiche. Passeggiare in montagna è fonte di grande benessere. La fatica, il silenzio, la compagnia di altri camminatori creano un mix perfetto per godere dei suoi benefici. Lo sanno bene i membri del CAI di Rimini che, certi del valore di questa esperienza, hanno voluto estenderla anche a chi in montagna non ci può andare in autonomia e hanno portato l'esperienza della montagna-terapia anche sul nostro territorio. Sono partite oggi con la prima escursione e le attività 2023 del gruppo. Per gli appassionati questa mattina c'è stata una prima sgambata di circa 7,5 km in compagnia di due persone disabili. Grazie alla Jolette, una speciale carrozzina monoruota, l'ospite infatti può fare il percorso in sicurezza e comodità assistito dai volontari del gruppo. La prima uscita è stato un percorso cittadino, quasi pianeggiante, con qualche leggero dislivello. La partenza al ponte di Tiberio, da lì il gruppo ha percorso il centro storico fino all'arco per poi scendere verso il mare lungo il parco Cervi, poi piazza Le Kennedy, il lungomare, il molo del porto e il ritorno verso Borgo San Giuliano. Ma questo è solo un assaggio.